SONTACIERO 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 E' qui! Non perdetelo di vista! è in trappola a riparo ok oh 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 è stato un grosso sbaglio non scherzo dovevo girare prima del ponte molto divertente oh aspetta dai un'occhiata qua funziona ancora? ah vieni a vedere ok vedi l'edificio nella baia tutte le imbarcazioni in arrivo nella colonia dovevano scaricare lì quindi se il tesoro di Eldorado è arrivato sull'isola devono averlo fatto entrare da lì un attimo cos'era quello? cosa? riavvolgi sì? sì, ferma ah proprio qui è la nostra via di uscita forza la nostra via di uscita vuoi rinunciare? non hai notato che siamo solo in due? finora ce la siamo cavata Elena non voglio il tuo cadavere massacrato sulla coscienza andiamo oh per favore rinuncia se vuoi ma non usarmi come scusa bene lo faccio per me, ok? voglio rinunciare pensi di venire o no? allora è così vuoi lasciar perdere il tesoro e dimenticare Drake? donnazione non vale la pena morire per questo ok ok senti dobbiamo tornare alla baia in ogni caso non preoccuparti possiamo litigare più tardi sarà fantastico aspetta stavolta guido io ok non capisco come fa un'intera colonia a scomparire dalla storia pare che abbiamo compagnia colpisci il marile cos'è successo a questo posto? l'intera città è inondata devi coprirci stavolta tappare città stavolta sp Wow! Sì. 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 Oh. Oh Wow Vieni forte Eccola Ok ora dobbiamo trovare una via d'accesso Sai ho letto una storia circa un tesoro inca maledetto Non pensi che... Ti prego non dirmi che credi a questa roba Era per dire E' successo qualcosa di strano qui Un'intera colonia non svanisce così nulla Già Beh tu come lo spieghi? Grazie Fare che quel cavo possa portarci là Andiamo a vedere Io rimango qui a guardia del mezzo Tu cerca un modo per raggiungere quella torre Va bene Fuoco! Ok Alla giù! Alla giù! Uraqa! Come dispesso io! Sta uscendo! Lo vedo! Ci penso io! È in trappola! Eccolo lì! Uraqa! Prendetelo! Fallo fuori! Eccolo l'abate! Si vede? Ciò! Ok. Sparate! Accidenti. Eccolo lì! Ehi! Ok. È laggiù! Ok. Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! E' in trappola! Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! Mi giù! Tutto ok? Ok?